Noi abbiamo, devo dire, io e Giuseppe al di là che siamo super partes, però un po' ce lo siamo detto, certo se vincesse Torre Annunziala saremmo contenti, per cui davvero con orgoglio do questa coppa a Torre Annunziale. Siamo noi, siamo noi, lì campeone dell'Italia, siamo noi, siamo noi, lì campeone dell'Italia, siamo noi.